Sì, adesso sono molto contento di stare qui perché se puoi trovare il spazio per giocare è più importante di trattare di fare il meglio qui per magari fare qualcosa di importante con la squadra. A Udine di solito i difensori ce ne hanno sempre buoni. Eh, di solito hanno un grande difensore lì che hanno stato tanto tempo.